I lavori di completamento del prolungamento del molo nord e ripristino dei massi sulla parte terminale del molo sud del porto di Giulianova sono attualmente fermi. Nonostante l'avvio dei lavori di potenziamento delle scogliere del molo sud gennaio finanziati con oltre 325 mila euro dalla regione, l'attività si è interrotta da un mese, permettendo così la riapertura al transito pedonale ciclabile. Questi interventi sono fondamentali per contenere l'energia delle onde marine durante le mareggiate, che hanno precedentemente superato il molo sud. Al termine dei lavori si prevede di installare quattro nuovi caliscendi, strutture tradizionali per la pesca artigianale. Per il molo nord i lavori sembrerebbero essere fermi a causa dell'attesa di autorizzazione ministeriale per il trasporto dei massi, nonostante il finanziamento di 3 milioni di euro. L'assessore regionale Umberto D'Annuntis sta valutando soluzioni alternative come l'esecuzione dei lavori dal mare per accelerare il processo. Inoltre sono in programma altri progetti per il completamento del porto, tra cui l'allungamento del molo sud e la rimozione di una sezione del molo nord. Questi richiederanno un investimento aggiuntivo da 6 a 9 milioni di euro, per i quali l'ente porto sta cercando i finanziamenti. Infine, recentemente la passeggiata artistica sul molo sud è stata dedicata a Marco Verticelli, ex assessore regionale e presidente dell'ente porto scomparso un anno fa.